queste sono solo alcune delle tante emozioni che entrano in circolo quando ci sentiamo fuori luogo quando ci sentiamo esclusi dal mondo dal mondo che ci circonda e ciò influisce sulla nostra personale autostima e fiducia sentire le emozioni è il primo passo di consapevolezza poi se ti senti in balia delle tue emozioni hai bisogno di un professionista per accoglierle per ascoltarle e poi decidere di passare l'azione e quale azione fare questo per iniziare a prenderti cura di te sono gianvito mi definisco artigiano d'emozioni e sono life coach con il mio programma protagonista della tua vita ha aiutato una cinquantina di persone a far pace con un passato ingombrante e a ritrovare un sereno equilibrio rigenerante nella vita quotidiana personale e professionale all'interno della coppia per l'individuo singolo nella coppia e a comunicare in maniera efficace con i propri figli e con il proprio partner la nostra rivola di vita ha bisogno di cure costanti e di amore grazie a tutti